buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi dedicato alle carte fintech andiamo a vedere insieme la carta nexo per quanto riguarda la piattaforma ho già fatto una video recensione vi lascerò tutti i link a fine di questo contenuto nel video di oggi andiamo a vedere alcune funzionalità e alcune caratteristiche di questa carta che dovrà arrivare anche in italia ovviamente dopo la sigla sul sito di nexo punto io ho già fatto una video recensione e una panoramica per quanto riguarda nexo ve lo lascerò infine a questo contenuto ora vi faccio un piccolo riassunto su che cos'è questo servizio ovvero nexo è una piattaforma di landing ovviamente basata su blog cene che permette il prestito di cripto valute i propri clienti nexo sostanzialmente ha due funzionalità per noi utenti la prima e se vogliamo mettere a rendita delle nostre cripto valute o la nostra stable coin preferita perché la vogliamo dare ma nello stesso tempo non sta maturando dei guadagni sperati o non abbiamo intenzione di fare trading quindi detenerla nel nostro portafoglio possiamo prestarla metterla a rendita su questa piattaforma e avere degli interessi indietro dall'altra parte possiamo prendere in prestito delle cripto valute lasciando ovviamente del collaterale chi mi segue ho già spiegato nei video sulla defa e che cosa significa usare una cripto valuta o una stable coin come collaterale per poter richiedere questo prestito e utilizzarlo a nostro piacimento nexo è una succursale di credissimo che è un gruppo fintech leader in tutta europa da oltre dieci anni infatti nexo è sostenuto da questa azienda che al suo interno ha un team esperto nel settore del credito da oltre dieci anni guardando due dati nexo negli ultimi periodi ha elaborato più di 300 milioni di dollari per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma degli utenti e ha una crescita che attualmente super 170 mila utenti attivi dispone di una rete più grande attualmente per quanto riguarda il landy cripto e viene riconosciuto come il più avanzato e il più affidabile fornitore cripto landing nel settore con ben 45 asset al suo interno e si trova in 200 giurisdizioni inoltre ha lanciato tempo fa il suo token utility token nexo e ai token order viene riconosciuto bene il 30 per cento dei dividendi sulle loro partecipazioni il 30 per cento che viene elargito ai token holder e pagato dagli utili della società come vedete in questa schermata questo è il totale dei dividenti che ha pagato nexo negli ultimi tre anni ora tralasciando le sue funzionalità perché ripeto ho fatto un video e ve lo lascerò fino di questo contenuto andiamo a vedere la carta di nexo per richiedere la carta scaricate l'applicazione che è disponibile sia per android che per ios vi registrate se avete piacere vi lascerò il link in descrizione adesso vi spiego anche cosa serve il link in descrizione e effettuate il che essi tutti i tre step di che essi perché l'ultimo vi permetterà di richiedere la carta nexo allora registrandosi con il mio referral link in questo caso se voi inviate il referral link della carta ai vostri amici che cosa serve vi servirà per abbreviare il tempo di attesa per ricevere la carta infatti se io clicco check your position vedete che io sono il numero 372 mila 947 attualmente in lista per ottenere la carta se io condivido questo referral link quindi se anche voi richiedete la carta e condividete il vostro referral link e gli altri utenti richiederanno la carta calerete la classifica e riuscirete ad averla in meno tempo possibile quindi non avrete un riconoscimento in denaro ma solo accorcerete la lista d'attesa chi mi segue sa che sono un fanatico delle carte finte che quindi non poteva mancare all'appello questa carta soprattutto visto che completamente gratuita mettendovi nella white list sarete avvisate riceverete la carta non appena sarà disponibile anche in italia una delle cose interessanti di questa carta che non ha costi di emissione non ha costi mensili non ha costi annuali registrandovi alla piattaforma di landing o exchange perché permette anche di fare le change acquistare cripto l'utero al suo interno non vi dà come detto prima l'automatismo di ricevere la carta dovete seguire gli step dei che gli essi e poi andarla a richiedere separatamente sono due cose completamente diverse la carta non gira sul circuito visa ma gira sul circuito mastercard e come vediamo è accettata da oltre 40 milioni di negozi in tutto il mondo un'altra future interessante è il cash back del 2 per cento immediato e su tutti i nostri acquisti questa è una caratteristica importante che non tutti hanno molti di voi potranno pensare che sul mercato ci sono delle carte che danno un cash back e molto più alto vede ad esempio cripto puntocom però bisogna pensare che per ottenere un cash back e così alto bisogna bloccare bisogna congelare all'interno di cripto puntocom un quantitativo di token con un valore ben alto in questo caso noi per avere due per cento di cash back non dobbiamo vincolare nulla ci viene da ci viene riconosciuto istantaneamente abbiamo la possibilità inoltre di richiedere e creare delle carte virtuali ed è compatibile anche questa una cosa interessante all'apple wallet per poter utilizzare apple pay vi ricordo che se alcune carte che avete non sono compatibili con apple pay ed apple wallet invito ad andare a vedere la mia recensione per quanto riguarda la carta curve che è praticamente è un wallet di carte di debito carte di credito dove basta registrare sull'apple wallet la carta curve vi permette di pagare con qualsiasi carta tramite apple anche se questa non è supportata vi lascerò comunque il contenuto a fine video per quanto riguarda il cash back abbiamo la possibilità di scegliere se ottenerlo in bitcoin oppure ottenerlo nel token nexo l'ultima future ma non per questo niente importante è la prima carta cripto che forse funziona anche da simil carta di credito nel senso che in base alle cripto valute che detenete nel portafoglio potete richiedere una sorta di credito andarlo a spendere nei negozi o dove volete e lo andrete a ripagare nel mese successivo con le cripto valute che detenete nel portafoglio e che ovviamente avrete messo come collaterale il portafoglio nexo quindi nexo wallet come vedete è dotato di una criptografia 256 bit che viene chiamata a livello militare e utilizza dei meccanismi algoritmici di monitoraggio delle frodi andoci su coin market cap andiamo a vedere il valore del token nexo che vale attualmente un euro e 60 con un'oscillazione negativa del 2,18 per cento e avrà un rifornimento totale di un miliardo di token andando a vedere il valore più basso di sempre è stato di 0,03 centesimi di euro e il valore più alto di sempre ha raggiunto il 12 maggio 2021 a 3 euro e 44 dal suo lancio ha avuto un incremento del 1781 per cento per quanto riguarda l'acquisto lo potete comprare ovviamente su nexo uobi global bitfinex uniswap probit bitfinex binan dex uniswap versione 3 one inch e altri importanti exchange ma possiamo monitorare nel mese di agosto i token holder abbiamo un incremento pazzesco il proprio il 29 agosto ecco abbiamo gli address contenenti il token e la percentuale di total supply detenuta in ciascun address bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento appena verrà rilasciata in italia aggiornerò questo contenuto sperando arrivi anche a me anche se al momento sono veramente uno degli ultimi ad averla richiesta spero che questo video vi sia piaciuto l'abbiate trovato utile mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale ed uniti via la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e per ricevere l'assistenza dovuta ciao a tutti a domani